Una figura che reputiamo fondamentale proporre in questo nostro percorso di video e mini-documentari è Carl Sagan, nato nel 1934 e morto nel 1996. Astrofisico e divulgatore scientifico tra gli ideatori del progetto SETI, nonché della Golden Record, la placca posta sulle sonde Voyager e destinata a eventuali civiltà intelligenti che l'avessero trovata, nonché autore del romanzo Contact da cui fu tratto l'omonimo film con Jodie Foster. Sagan fu inoltre tra i principali sostenitori della teoria extraterrestre, come spiegazioni per gli avvistamenti dei dischi volanti che dal 1947 si era iniziato a segnalare nei cieli di tutto il mondo. Assunto una fama a livello internazionale, Sagan si mostrò sempre aperto nel dibattito scientifico, dimostrando allo stesso tempo il rigore e la serietà che sono proprio di quest'ambito. Nel 1966 diede alle stampe un libro scritto a quattro mani con l'astrofisico Josef Schlossky intitolato Intelligent Life in the Universe, in cui i due studiosi formularono alcune ipotesi che sarebbero diventate fondamentali nei decenni successivi. Il testo è incentrato a livello generale sulle ipotesi riguardanti l'esistenza di forme di vita intelligenti nell'universo e come l'umanità potrebbe porsi in contatto e quindi anche interagire con loro. Ancor più interessante però è l'ipotesi formulata dai due autori per la prima volta in modo sistematico che nelle ere storiche più antiche del nostro pianeta fossero potuti avvenire dei paliocontatti con civiltà extraterrestri, successivamente trasposti e identificati nei miti e nelle religioni di molte civiltà. Nel loro libro, oltre a coniare il termine paleocontatto, dedicarono un intero capitolo a questa probabilità argomentando come scienziati e storici dovessero prendere seriamente in considerazione e studiare questa ipotesi non ridicolizzandola come già allora veniva fatto, ma vagliando seriamente la possibilità che alcune civiltà extraterrestri avessero visitato il nostro pianeta in tempi estremamente remoti. Schlossky e Sagan, non di meno, proposero la teoria del paliocontatto da un punto di vista speculativo, non argomentandola e ritenendola plausibile da un punto di vista teorico-statistico senza realmente però produrre elementi a suo sostegno. Schlossky e Sagan ritenevano che, civiltà enormemente più avanzate della nostra, sono state sicuramente in grado di solcare gli spazi tra le stelle e, secondo la loro stima, un primo contatto sarebbe avvenuto addirittura a 25 milioni di anni fa, in cui questi visitatori avrebbero notato la presenza sul nostro pianeta della specie ominide del Proconsul, di cui avrebbero seguito l'evoluzione. Avrebbero quindi iniziato a visitare il nostro pianeta in maniera sempre più costante, sistematica e frequente, fino a giungere ad uno spazio di soli 10 mila anni fa. Questo avrebbe ovviamente generato nel tempo la possibilità di un contatto fra i visitatori e la specie umana, che nel frattempo si era evoluta fisicamente e culturalmente. Parallelamente, il lavoro di Schlossky era stato oggetto di grande attenzione e di un approfondito studio da parte dell'NSA, la National Security Agency americana, forse la più importante realtà governativa statunitense in tema di spionaggio. In un articolo desecretato solo nel 2004 e intitolato Communication with Extraterrestrial Intelligence, l'analista Lambros Callimacos dell'Agenzia non solo si diceva ampiamente certo dell'esistenza di altre forme di vita nel cosmo, riprendendo a piene mani le teorie di Schlossky, ma si spingeva oltre postulando metodologie di contatto attraverso cui sarebbe stato possibile dialogare con questi esseri. Per quanto si fosse considerato un lasso tecnologico, temporale di milioni di anni entro cui queste visite sarebbero potute avvenire, Sagan calcolò che siano potuti avvenire almeno 10 alla quarta, cioè circa 10.000 contatti, durante il tempo geologico della Terra. Un valore a dir poco stupefacente che indurrebbe qualsiasi scettico a rivedere le proprie stime pessimistiche. Sagan illustrò questa ipotesi citando la spedizione del 1786 dell'esploratore francese Jean-François de Gallup, conte di La Perouse, il primo europeo ad entrare in contatto con la cultura Tlingit. La storia di questo incontro fu custodita sotto forma di tradizione orale dai sacerdoti Tlingit e, a distanza di un secolo dal primo contatto, i racconti di questa popolazione furono registrati dall'antropologo George Emmons. Per quanto fossero stati inquadrati in un paradigma culturale e spirituale proprio di questa cultura, la storia dell'incontro con La Perouse era rimasta una narrazione accurata e fedele degli eventi del 1786. Secondo Sagan, tale evidenza rivelava come, in determinate circostanze, un breve contatto con una civiltà aliena possa essere stato registrato in maniera ricostruibile. Schlossky e Sagan citano a tale riguardo anche il mito di Johannes, un essere antropomorfo dalle fattezze di pesce che, secondo le leggende mesopotamiche, insegnò l'agricoltura, la matematica e le arti ai primordi della civiltà somera. Secondo i due studiosi, tale resoconto dovrebbe essere preso seriamente in considerazione per la sua alta consistenza di dettagli e come verosimile istanza di un paleo contatto. Nel dibattito instauratosi a seguito dei primi studi in questo campo, di non minor conto fu anche la controversia nata tra lo stesso Sagan e gli studi dello psichiatra russo Immanuel Velikovsky, nato nel 1895 e morto nel 1979, amico di Einstein che ne fu anche un grande sostenitore. Sovente è stata contestata a Sagan la sua linea profondamente critica nei confronti degli studi dello psichiatra russo, ma ad attente ricerche riportate in Italia da ricercatore Lucas Cantamburlo è possibile recuperare una storia diversa. In realtà il giudizio di Sagan ai riguardo non è ben conosciuto. Ho trovato delle interessanti testimonianze scritte e video in cui Sagan difende la libertà di esercitare la critica ai consolidati modelli della conoscenza e lo fa citando proprio il discusso psichiatra di origine russa, autore di World in Collision e di Age in Chaos, afferma appunto Scantamburlo. Nel celebre testo intitolato The Dragons of Eden, con cui Sagan vinse il premio Pulitzer nel 77, a pagina 248 dell'edizione statunitense, le teorie dello psichiatra russo sono citate ampiamente. Sagan in queste pagine riteneva che sarebbe potuto esistere un nucleo di verità in queste teorie eterodosse e fra di esse è menzionato anche il catastrofismo di Velikovsky. Nel corso della quarta puntata del suo programma televisivo Cosmos invece Sagan affermò di Velikovsky che l'aspetto peggiore delle teorie di Velikovsky non è il fatto che molte delle sue idee fossero sbagliate, sciocche o in contraddizione con i fatti, ma piuttosto è il fatto che alcuni degli scienziati hanno tentato di sopprimere le idee stesse di Velikovsky, la soppressione di un'idea scomoda, forse comune nella religione o nella politica, ma non lo è nel sentiero della conoscenza. Parole illuminanti su cui dovremmo ragionare ancora oggi e su questo punto dovremmo far meditare alcune tipologie di soggetti in maniera molto approfondita. Quindi, pur non condividendo completamente le tesi di Velikovsky, Sagan deplorava e disapprovava decisamente l'atteggiamento di certi scienziati o studiosi che, ieri come oggi, tentavano di invalidare le idee del celebre studioso russo, comparso nel 79, semplicemente perché non in linea con lo status quo dominante e quindi con il pensiero comune della scienza. Anche in questo caso lo spirito di Sagan appare alquanto contraddittorio e talvolta ambiguo, ma indubbiamente propositivo verso un avanzamento della conoscenza e della consapevolezza del nostro passato lontano da ostracismi e biechi dogmatismi. Nel suo libro del 1979 Broke's Brain, Sagan suggerì inoltre, e sempre assieme a Schlossky, come potessero essere stati i primi ispiratori della corrente di libri sorta negli anni 70 sugli antichi astronauti, ad avere deviato da una linea di condotta corretta, esprimendo la sua disapprovazione su figure come Erich von Daniken e altri scrittori non critici che apparentemente avevano ripreso queste idee non con uno spirito valutativo, ma come legittime e a critica prova del contatto extraterrestre. Schlossky e Sagan non negarono la possibilità di un paleo contatto che avevano sostenuto e avvalorato già nel loro testo del 1966, ma si scagliavano abbastanza duramente contro quegli studiosi e ricercatori che a loro dire avevano trasformato delle teorie in dati di fatto, ovvero non si erano mossi con uno spirito critico tale da lasciare aperte tutte le possibilità interpretative ma senza dogmatismi. Sagan arguiva che, mentre molte leggende, artefatti, oparts, erano citate a supporto della teoria degli antichi astronauti, solo pochi erano degni di essere considerati, mentre gli altri potevano essere spiegati con ipotesi più convenzionali. Questo però lascia aperta la possibilità che ovviamente alcuni di questi oggetti e alcuni di questi contatti siano avvenuti realmente. Sagan inoltre quasi ritrattava in certi casi le sue precedenti conclusioni, espresse alcune pagine prima, affermando che visite extraterrestri nel passato del nostro pianeta erano possibili ma non provate e quindi improbabili. L'atteggiamento contraddittorio di Sagan, che pur mise a repentaglio la propria credibilità, pubblicando numerosi articoli su riviste scientifiche e arrivando a dare alle stampe il romanzo di fantascienza Contact, può trovare forse a nostro giudizio una spiegazione in coloro che lui stesso definì gli scrittori da strapazzo, più incentrati a produrre del sensazionalismo e a vendere copie che a cercare le vere prove di un paleo contatto. Una questione comune non solo a questa tematica, ma a un'infinita costellazione di altri ambiti delle nostre vite. Dopo aver studiato attentamente le opere e gli scritti di Sagan, sono personalmente convinto che, per quanto ne fosse stato uno dei primi e più prodighi fautori, lo studioso si allontanò dall'idea iniziale del paleo contatto per non vedere inquinata la propria immagine, ormai divenuta internazionale, pubblica e di grande successo. Forse un peccato di vanità di un uomo che aveva raggiunto l'Olimpo della notorietà. Non si dimentichi poi che Sagan realizzò per la sonda Pioneer 10 un messaggio destinato ad eventuali civiltà aliene che fossero venute in contatto con essa, un biglietto da visita per mostrare a chi ne fosse venuto in possesso i caratteri della vita sul nostro pianeta. Al suo interno vi incluse musiche di un complesso mariachi e anche degli auguri scritti in lingua sumera. Curiosa la scelta di questa lingua morta.